ciao a tutti ragazzi bentornati qua su minecraft oggi faremo una roba speciale sono tornato quasi in montagna come ho detto lo scorso video solo che oggi piove quindi ho tutto il tempo di registrare i video andiamo questi Sì ok apportazione le modifiche la porta e le ci sbagliate difficile e 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 questo l'altro piccone è quella che si stava rompendo ho messo anzi guardate spada del boss palla bossomica ascia del boss e credente dell'imperatore ma l'altro si chiama la piccozza la piccozza del boss vorrei di andare la dove vi ho fatto ora vedere andiamo qua alla forma di creeper per 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 mi la volta il gioco è colpa di questi creeper che qua è pieno ogni volta non 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 v che non Ok funziona, non lo uso, è importante che tipo un creper non mi venga lì vicino a me, perché se non è un casino per rimettere a posto, poi senza credere il buco, qua, quanto siamo messi? Ho capito perché mi latta il gioco, anche, c'è così, c'è solo uno scappino di caduce che i miei amici non vogliono entrare, questo è un piano che sopra se non possiamo, che stacciamo? Grazie. non far più a forza così andiamo lì che spiego così che sponano meno se l'altro è gioco è colpa anche di gatto non è vero la prima volta la prima volta la prima volta la prima volta di ammobili qui ormai ci gioco io cioè gli altri miei amici non possono per essere chiusi a scoprire un gioco di fontina e faccio sì vabbè e ancora la guida c'è c'è un gioco c'è un gioco spottanum fari bara ekki ma viti bara ekki velli c'è un gioco c'è un gioco e un gioco e sa un gioco un gioco e di meloni e visto che mi eravamo avanzato un po' di foglie ho fatto così per coprire con la porta per coprire questa roba qua così sembra un ascensore e se uno ti vede da fuori dice wow che figo ho messo due tappeti così questa roba qua è un po' cachetica e tutto è allineato invece ho gli alberi così ho fatto fare così perché è bello un mio amico mi ha detto perché gli ho mandato la foto ha detto sembra una mini skywalk e una mini skyblock a 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 Ah sì, la una sensura poi si acabo, credo che era una sensura e l'acqua. Ah, sono uscita di un po' io. Ah, di qua c'è una porta, se li ho messo, poi. Qui si vedete che i testi sono tutti, perché prima c'erano una casa, e poi si sottrava con questa roba qua. Ah, qua lì. Ho voluto fare scuola del piano. Ciao! Ah, va bene. Arco super rubi. Prego. Prego. Adesso mettiamo il torte. e qui invece mettiamo bene l'interno oh no è spappato molto male qua che è successo facciamo così fighiamo questo fighiamo questo ottimo aia male perché non butto aia mi chiamo così ok 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 attenzione va su sto cercando di no sto cercando la mia si qui qui l'escrizione è un un